Finisce il derby dei Beretti fra Albinoleff e Atalanta, 4-0 per l'Albinoleff, siamo con Enrico Di Cesare, autore dell'ultimo gol. Enrico, una bella partita da parte vostra, soprattutto concreta. Sì, siamo entrati in campo decisi, abbiamo fatto fatica un po' ai primi minuti del primo tempo. Dopo, meritatamente, abbiamo trovato il gol, anche il secondo, e diciamo che abbiamo preso coraggio e la partita si è svolta più che altro in discesa. Un'altra vittoria per questa vostra bella stagione. Tutto bene sta andando? Sì, diciamo che sia magari qualche volta con fortuna, ma comunque tanto allenandoci bene, impegnandoci in partita, stiamo riuscendo a trovare delle ottime prestazioni e degli ottimi risultati. Che vi porteranno alla vetta della classifica? L'obiettivo è vincerlo questo campionato? Diciamo che il nostro obiettivo è cercare sempre di far bene ogni partita e dimostrare di valere ciò che valiamo. E se dopo le vittorie ci porteranno a vincere il campionato, vinceremo.